Andiamo insieme a Lidl e spendiamo il buono di 40 euro, in primis dobbiamo attivarlo con lo sconto di 40 euro, ecco quanto ho speso, ed iniziamo lo svuota spesa con questa pianta, ho deciso di farla morire a casa mia perché farla morire in negozio sembrava molto brutto, un peccino d'acqua si vede che è proprio personale perché è mia. E tante altre cose, secondo me ne basta veramente la pena, comprare il mio circosino sia perché io lo uso tantissimo, sia per questo sconto, è bellissimo comprare tantissima roba, a poco, anche se comunque i soldi sono sempre miei, ma è bello ricevere uno sconto, costa di modo. Comunque vi auguro una buona missione, fatemi sapere cosa ne pensate della mia spesa, ciao! Il cavolo romano Appagano 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 Appagano